buonasera ed eccoci qui a un nuovo incontro con creo con l'alfabeto emotivo e l'argomento di oggi abbiamo scelto nella riunione che abbiamo fatto qualche giorno fa è stato vivere con se stessi e con gli altri ovviamente questo tema nasce dalla situazione in cui ci troviamo e non vogliamo parlare della situazione in generale ma degli effetti che la situazione sta avendo su di noi prima di iniziare vorrei fare due premesse una è che tutti ci stiamo adoperando in questo periodo per valorizzare questo tempo in cui forzatamente siamo tutti in casa e quando succede qualche cosa del genere si attivano altre risorse noi come creo ci stiamo attivando in questi giorni abbiamo fatto diverse riunioni per ripensare il nostro progetto e questa modalità è una delle soluzioni che abbiamo adottato un'altra soluzione è quella di offrire delle sessioni di coaching gratuite ovviamente in remoto per cui potete fare una richiesta se volete per due sessioni di coaching gratuite scrivendo su semplicemente una mail a info chiocciola creo italia punto com l'altra questione che stiamo attivando a parte il webinar che abbiamo calendarizzato tutte le settimane fino a quando resteremo in casa tutti i venerdì alle 18 dalle 18 alle 19 questi primi webinar li farò io poi ci saranno anche i miei colleghi prossimo lo faremo insieme a eugenio vignali che saluto e ringrazio per essere entrato nel gruppo di creo e e ci alterneremo poi con gli altri consulenti e formatori di creo sui vari argomenti un'altra cosa che volevo ricordarvi è che questo momento qui sarà un momento interattivo cioè anche se non ci vediamo di persona dobbiamo però dialogare quindi vi chiediamo di inviarci da questo momento in poi delle domande sugli argomenti che stiamo trattando ma anche degli argomenti che vorreste trattare in seguito quindi scrivete qualche domanda sempre info chiocciola creaitalia.com chiedendoci qualcosa di cui vorreste sentir parlare poi partecipate al webinar e proveremo a dialogare a rispondere con voi finite le premesse andiamo a fare una breve sintesi di quello che è stato l'incontro della volta scorsa che era un numero zero quindi diciamo il numero uno dovrebbe essere questo abbiamo deciso di chiamare questa serie per noi una serie come una serie tv questa sarà una serie diciamo formativa abbiamo chiamato alfabeto emotivo e quando ci siamo chiesti quali lettere potevamo utilizzare alla prima lettera quale quali quali emozioni potevamo utilizzare la prima lettera la c'è venuta subito la parola amore però non volendo trattare un tema così ampio e di cui è difficile parlare perché l'amore come il tempo se tu me non me lo chiedi io so che cos'è se tu me lo chiedi come diceva Tommaso d'Aquino non so più che cos'è non te lo so descrivere e allora abbiamo scelto un'altra parola che in questo periodo forse viene più frequentata che è la parola ansia l'emozione ansia intorno all'ansia girano tanti temi tanti argomenti oggi noi proveremo a parlare di ansia ma proveremo a parlare anche di un'altra un altro argomento un altro tema che ha a che fare con le emozioni e anche con l'ansia adesso lo vedremo però strada facendo volevo darvi un'ultima un'ultima indicazione su come ci organizzeremo cercherò di fare le 15 minuti di diciamo di riflessione poi se ci sono domande come mi auguro che ci saranno proverò a rispondere alle domande poi altri 15 minuti di riflessione e poi altri 15 minuti domanda di domande e ci fermeremo a un'ora ok quindi cominciamo e oggi l'argomento come dicevo era vivere con se stessi e con gli altri in questo periodo noi stiamo stiamo subendo vivendo per certo non abbiamo scelto di vivere forzatamente in casa lasciamo perdere quei momenti eccezionali con l'autocertificazione possiamo uscire per fare la spesa però siamo costretti in casa nelle case in cui abitiamo abbiamo delle composizioni diverse andiamo dalla persona singola a una famiglia numerosa questa dimensione di obbligatorietà e di limite genera delle dinamiche allora la prima cosa che ci viene in mente subito pensando al limite è il limite della libertà il limite della libertà di scegliere di fare altro rispetto a quello che ci viene chiesto o imposto che cosa che cosa viene limitata in che cosa viene limitata questa libertà e in che cosa ci sentiamo condizionato cioè c'è c'è un bene scarso no quello della libertà quello dello spazio quello del tempo che però in questo caso è un tempo che aumenta allora abbiamo detto due dimensioni che sono parte della vita dell'essere umano cioè il tempo e lo spazio la terza dimensione sono le persone ok cioè la nostra vita si si sviluppa su queste tre dimensioni tempo spazio persone perché noi viviamo un tempo che poi è un tempo biologico psicologico o emotivo uno spazio che lo spazio delle nostre abitazioni delle nostre città dei nostri luoghi di lavoro e viviamo di relazione come dicevamo nella volta scorsa noi viviamo di relazione comunicazione tutto questo viene vissuto a partire però da una percezione cioè la percezione del tempo la percezione dello spazio la percezione che io ho delle situazioni e delle persone con cui vivo la dimensione del prima abbiamo parlato dell'ansia e quando a un certo punto per esempio si apre il tempo in maniera si può dire come dire uguale non è più cadenzata da ritmi che sono segnati dalla quotidianità cioè uscire per andare a scuola per andare al lavoro per andare a prendere il tram per andare a prendere la macchina fare gli spostamenti creare degli appuntamenti anche se oggi abbiamo già ricreato una certa routine fatta attraverso i mezzi elettronici però questa dimensione dello spazio limitato e del tempo che aumenta cambia la percezione la percezione che abbiamo di noi stessi rispetto all'esterno rispetto a alle cose che dobbiamo fare e la percezione anche degli altri come ci relazioniamo quindi teniamo a mente intanto queste tre dimensioni spazio tempo e persone e alla base come percepiamo le relazioni quando noi ci mettiamo in relazione con gli altri noi abbiamo una dimensione di conoscenza di quella che è la nostra interiorità ma non abbiamo una conoscenza dell'interiorità dell'altro il filosofo hegel diceva che noi abbiamo auto coscienza di noi stessi e coscienza dell'altro ma non sappiamo l'altro che cosa pensa per esempio sarebbe una cosa immaginate come sarebbe il mondo e la vita se noi potessimo pensare quello che pensano gli altri cioè pensare potessimo sapere quello che pensano gli altri avere la certezza che io so che cosa stai pensando tu che mi sei di fronte in questo momento noi possiamo solo immaginarlo non possiamo saperlo io so quello che penso io quello che sento io quello che provo io ma non riesco a sapere quello che sente l'altro quello che prova l'altro questa cosa ci porta completamente ci mette completamente in una posizione di fragilità di incertezza perché non sapendo e non riconoscendo la verità dell'altro l'interiorità dell'altro dobbiamo solo in qualche modo intuire comprendere a cercare di capirla interpretarla allora quando parliamo di emozioni noi parliamo di una reazione a un input dicevamo la volta scorsa l'elaborazione di un come dire una reazione a qualche cosa che sta avvenendo o fuori di noi o dentro di noi e quindi è una reazione in qualche modo a una situazione che sta accadendo o che potrebbe accadere per esempio nel caso dell'ansia è sempre qualche cosa che potrebbe accadere l'ansia allora l'ansia lo dicevamo già la volta scorsa abbiamo fatto la distinzione se vi ricordate chi c'era fra emozioni primarie e emozioni secondarie le emozioni primarie sono quelle che nascono all'origine per la nostra sopravvivenza e sono la paura la tristezza la gioia l'amore il disco il disgusto la sorpresa la rabbia che sono tutte emozioni che in qualche modo ci oggi come dire difendono la nostra sopravvivenza fisica oppure in qualche modo sono protese verso la procreazione verso la generatività verso quindi siamo emozioni che difendono in qualche modo la specie cioè la soggettività parlavamo la volta scorsa di soggettività di specie soggettività culturale le tutte le altre emozioni sono frutto della soggettività culturale cioè sono elaborazioni delle esperienze quindi le persone reagiscono in maniera anche diversa rispetto allo stesso stimolo dipende da come hanno elaborato la propria esperienza vedevamo anche sul piano del temperamento del carattere della personalità allora stavamo dicendo una volta che questo questo è l'emozione cioè la produzione dell'emozione come io rispondo a quello che sta accadendo dentro di me o fuori di me nel momento in cui io sono in uno spazio chiuso quello spazio non può sembrare ristretto e quel tempo mi può sembrare infinito io posso avere l'ansia del momento il timore per il futuro l'ansia perché non riesco a gestire bene la situazione che sto vivendo e non so che cosa succederà in futuro questa questo doppio livello di timore che è tipico dell'ansia viene causato perché normalmente perché noi siamo abituati al controllo siamo abituato lo dicevamo anche la settimana scorsa siamo abituati a controllare la nostra realtà a ridurre il più possibile la dimensione dell'incertezza per evitare di trovarci sprovvisti sprovvisti di risposte sprovvisti di capacità di gestire la situazione che sta accadendo quindi questo bisogno di controllare non fa altro che aumentare l'aspettativa e quindi aumentare la fragilità nel momento in cui ci viene a mancare la certezza per esempio una certezza è rendere rutinarie tutte le attività che facciamo cioè sapere che io domani mi sveglio a quell'ora che devo fare questo che devo fare quest'altro è un senso anche di protezione no le abitudini in qualche modo ci proteggono è un abito che noi mettiamo abitualmente e che quindi in qualche modo ci rassicura quando noi abbiamo tanto tempo a disposizione questa cosa poi è più in teoria che in pratica la stiamo vivendo adesso però ritrovarci da un da un ritmo dettato dall'esterno a un ritmo che deve essere ricostruito dall'interno dalle mie priorità sono io che stabilisco le mie priorità sono io che mi do dei un dettato no dei tempi questa cosa mi può creare ansia mi può creare ansia perché come dire devo rivedere proprio il concetto di organizzazione del tempo quando io mi trovo poi in spazi costretti quando lo spazio è limitato la gestione la contesa dello spazio diventa più problematica penso agli spazi come dire comuni uno fra tutti la televisione il bagno o i bagni a seconda se ce ne sono uno o due spesso ce n'è uno solo quindi la contesa del bagno vero è che noi abbiamo più orari diversi e quindi possiamo gestire allora pensando anche delle possibili soluzioni la cosa che anche noi stiamo sperimentando è io certe volte mi diverto a dirlo il management dei pasti il management della televisione non siamo arrivati al management del bagno però noi abbiamo stabilito per esempio una lavagna su cui sappiamo quello che abbiamo organizzato come il pranzo del giovedì del venerdì della sera del sabato eccetera eccetera quindi sappiamo ci siamo così quello che vediamo in televisione se vogliamo vedere un film una serie tv un documentario o così via allora questa è una prima cosa gestire e qui veniamo al punto cruciale dopo di che farò una pausa per vedere se c'è qualche domanda allora le situazioni che noi viviamo che ci vengono addosso che sono come dire il frutto fra le mie azioni e le risposte del sistema in qualche modo no perché io mi muovo e muovendomi genero una reazione o risposta da parte del sistema spesso io mi trovo a subire le situazioni perché non le ho scelte io quelle situazioni che non ho scelto me le ritrovo addosso quasi come un senso del dovere dove rispondere a quelle situazioni è come se mi arrivasse uno stimolo faccio il parallelo con le emozioni mi arriva uno stimolo genero un'emozione ok nello stesso caso nello stesso tempo quando mi arriva una situazione questo tipo una obbligatorietà un dovere una richiesta qualsiasi cosa sul lavoro nella vita familiare eccetera eccetera mi viene fatta una richiesta io devo rispondere dove sta il problema che spesso noi reagiamo anziché rispondere pensate alla differenza fra reazione e risposta quando è una reazione noi spesso diciamo è una reazione istintiva la volta scorsa abbiamo detto che non esistono gli istinti per noi umani se non quei due di protezione della specie e procreazione della specie quindi la sessualità e l'aggressività fatto salvo queste due questi due istinti il resto sono pulsioni sono elaborazioni e sono come dire reazioni reazioni faccio un esempio per chiarire se io lancio questa penna in aria siccome è sottoposta la forza di gravità la penna cade per terra non si può ribellare giusto se il mio gatto sta lì di fronte a me se io gli do un calcio il gatto miagola furiosamente però poi scappa perché in qualche modo mi teme ok se fosse un cane più grosso magari reagirebbe eccetera eccetera perché reagisce sulla base dell'istinto attacco fuga noi a differenza della penna o a differenza del gatto abbiamo la possibilità di scegliere nel momento in cui ci creiamo la possibilità di scegliere non abbiamo più una reazione ma decidiamo una risposta una risposta di comportamento è un comportamento che tu agisci sulla base di una responsabilità cioè sei soggetto e non più oggetto l'oggetto penna reagisce l'animale è istintivo tu scegli culturalmente in vista di quale può essere il tuo obiettivo come vuoi stare che tipo di rapporto vuoi avere con quella persona con quella situazione tuo padre tuo marito tuo figlio il lavoro il capo che tipo di rapporto vuoi avere con questa situazione e allora a quel punto produci la risposta è chiaro allora è importante tenere a mente questa dimensione di passare noi facciamo fare in genere quando facciamo le aule facciamo i percorsi di coaching il diario di transito il diario di transito vuol dire passare dalla reazione diciamo meccanica pulsionale istintiva chiamatela come volete comunque sempre reazione ricordatevi che la reazione è una risposta rigida a uno stimolo ok la penna non può reagire diversamente il gatto il cane possono reagire in due modi anzi scusate c'è il terzo la congelamento bloccarsi vedete che in natura ci sono degli animali che si mimetizzano si nascondono l'evitamento anche noi umane lo facciamo evitiamo la fuga come dire è anche fatta non scappando fisicamente ma evitando l'evitamento è una dimensione di fuga in qualche modo allora noi possiamo scegliere quindi come passare dalla reazione alla dalla reattività quindi dalla reazione alla scelta come risposta questo è un lavoro su cui dobbiamo in qualche modo impegnarci chiedo a marcia se ci sono delle domande mi dice di sì vediamo la prima la prima la lettura del pensiero è una distorsione cognitiva perfettamente d'accordo la lettura del pensiero è una distorsione cognitiva nel senso che noi proviamo a leggere il pensiero ma ovviamente è un'interpretazione cioè andiamo sul come sull'interpretazione non possiamo averne certezza noi siccome abbiamo sempre bisogno di noi una cosa di cui perché perché noi arriviamo a fare la lettura del pensiero a cercare di interpretare l'altro noi abbiamo bisogno di conferme su questa su questo tema vorrei ricordarvi già in anticipo che la prossima settimana molto probabilmente faremo dedicheremo una puntata io e il mio collega eugenio a proprio al tema del bisogno i bisogni bisogni sogni desideri insomma come come riusciamo a gestire la differenza fra bisogno e desiderio e come ci rapportiamo nei confronti delle nostre necessità dei nostri bisogni questa dimensione perché noi arriviamo a interpretare come giustamente dice eugenio a esercitare la lettura del pensiero perché noi abbiamo due necessità fondamentali fondamentali il senso di appartenenza è un bisogno di indipendenza io ho bisogno come essere umano essere sociale di appartenere a un gruppo una famiglia un clan a una tifoseria devo appartenere il senso di appartenenza fortissimo il bisogno di appartenenza è fortissimo ma nello stesso tempo il bisogno di individualità di autonomia di indipendenza io sono io e per quanto sia simile a tutti gli altri maschi della mia generazione della mia età della mia cultura io sono diverso da dalla persona più simile a me io sono completamente diverso questi due bisogni in qualche modo ci lasciano come dire quella prima contraddizione che non viviamo il bisogno e il timore dell'altro ecco perché io vorrei sempre controllare l'altro e sapere quello che pensa di me perché a me sinceramente a me soggetto umano che pensi qualcosa di se gli piace che ne so una certa musica un certo attore o cantante o una squadra sportiva mi interessa relativamente io ho bisogno di sapere quello che pensa di me questo è il nostro bisogno se noi riuscissimo a fare a meno di questo bisogno saremo tutti più liberi saremo tutti più tranquilli questo è il problema di fondo ma il bisogno dell'altro perché abbiamo bisogno di confermi di sicurezza di accettazione di gratificazione eccetera eccetera ci mette in una condizione di fragilità ecco perché vorremmo sempre controllare l'altro il come dire la valutazione che l'altro da di noi il giudizio che l'altro da di noi eccetera questo ci mette in una condizione di fragilità vediamo la seconda domanda noi sin da piccoli viviamo vite e organizzate quando questa organizzazione si combina si scombina ci sentiamo persi non sarebbe meglio essere abituati di più al caso all'imprevisto avere un'adeguazione alla libertà Elisabetta Elisabetta fa sempre delle domande molto molto generative di altre suggestioni assolutamente d'accordo completamente d'accordo bisognerebbe educare i genitori a educare all'incertezza bisognerebbe educare gli insegnanti a una formula da chiedere ai loro allievi e studenti di non ripetere le cose che gli hanno detto gli insegnanti ma lasciare che esplorino guidandoli accompagnandoli sviluppando la loro capacità intellettiva verso la capacità di esplorazione che è tipica di un adolescente tipica di un bambino noi invece li incanaliamo in percorsi prestabiliti un bambino è bravo quando ti ripete le cose che tu gli hai detto uno studente bravo quando ti ripete le cose che tu hai detto precise un insegnante di mio figlio Davide che insegna italiano ha una poca capacità comunicativa da quello che mi racconta ma in questi giorni ho avuto modo di ascoltarlo anch'io da dietro la porta realmente si fa fatica a fatica a seguirlo allora ha detto a Davide segui il libro studia sul libro e dice no ma lui vuole sentire le cose che ha detto lui questo è un problema questo è un problema però è un fatto di educazione tutta la nostra cultura fa così corrispondere alle aspettative degli altri di chi ha più potere e decide quali sono le regole quali sono i modi quali sono i modelli comportamentali però cara Elisabetta se noi vogliamo migliorare il nostro la nostra condizione perché noi possiamo partire soltanto da noi come punto di partenza io sono il punto di partenza posso cominciare a lavorare sulla mia accettazione dell'incertezza sulla mia accettazione della come dire dell'imprevisto e sapere che se me la son cavata in tante altre situazioni continuerà a cavarla quindi un po di creatività una grossa base di fiducia una grossa base di auto efficacia guardate non sto parlando di autostima autostima per me è sempre un prodotto finale quello che ci interessa è lavorare sull'auto efficacia l'auto efficacia significa avere contezza dei risultati che hai ottenuto e dare valore a quello che hai a quello che hai ottenuto perché noi siamo troppo concentrati su ciò che non abbiamo su ciò che non siamo riusciti a fare e ci dimentichiamo quello che abbiamo fatto ci dimentichiamo quello che abbiamo ottenuto e allora questa educazione all'imprevisto questa educazione alla libertà significa educazione all'imprevisto all'incertezza significa educazione alla libertà pienamente d'accordo ce n'è ancora un'altra domanda aspettiamola e poi riprendiamo il ragionamento che stavamo facendo vediamo questa domanda che arriva da Sara a proposito di relazione secondo lei questa quarantena potrà posso chiedere alla mia collega marcia di scrivere stampatello perché non capisco bene la scrittura potrà influire sulla qualità dei rapporti interpersonali crede che saremo ancora abituati alla socialità o il metro di distanza che ci viene ora in posto verrà mantenuto cara Sara lei mi dà del lei io le do del lei e lei ha posto una domanda proprio stamattina abbiamo fatto una riunione con i miei compagni che saluto e ringrazio per per la bellissima riunione che abbiamo fatto stamattina e per il nuovo percorso che stiamo intraprendendo oggi ci dicevamo proprio una volta che usciremo dalla quarantena questo bisogno di riabbracciarci sarà vero sarà onesto o non bisognerà recuperare gradualmente il senso di fiducia oggi io dicevo che la fiducia e la moneta che circola di meno la moneta di scambio che circola di meno per me quando si parla di di pil di bisogna spendere bisogna far circolare la moneta per far alzare l'economia per far viaggiare l'economia non avrebbe anche dire bisognerebbe alzare il livello della spesa sulla fiducia la fiducia più la spende più si rigenera e allora la sua domanda è legittima io non so se ritorneremo a essere come prima meglio di prima peggio di prima io credo che per qualsiasi cosa decideremo di esserlo di essere dovremo costruirlo dovremo lavorarci con gradualità facendo come dire quasi una rieducazione alla socialità sperando che si ricostruisca su basi nuove con meno ipocrisia con meno opportunismi con meno strumentalismi con meno manipolazione e con più trasparenza con più autenticità con più onestà perché quella vulnerabilità che noi sentiamo in questo momento e in tutti i momenti in cui l'ansia di cui stiamo parlando è generata dalla vulnerabilità dalla percezione della propria fragilità quando ci esponiamo all'altro la vulnerabilità è l'esposizione senza protezione e lei pensa che in questa società noi possiamo esporci liberamente questa è quasi un'utopia allora e è questo su cui dobbiamo lavorare cioè ridurre la distanza perché tutti possiamo diventare in qualche modo sponsor dell'altro perché l'altro possa esprimersi nel migliore dei modi perché possa crescere dare il mo il meglio di sé perché quel meglio serve a tutti noi se ogni soggetto ogni persona arriva a esprimere il meglio di sé ci guadagneremo tutti nella timidezza nell'insicurezza nella fragilità non ci esponiamo non esploriamo non sperimentiamo non cresciamo non creiamo e la società come dire se ne è uno svantaggio per la società si impoverisce allora chi fa comodo tutto questo non lo so però questo è il meccanismo che stiamo vivendo tra l'altro prima parlavamo dell'ansia sono due tipi di ansia una è quella che ci ritorno a grazie sarà ritorno a a parlare di quello che stavamo dicendo prima della questione dell'ansia l'ansia è o per qualche cosa che può avvenire un evento una persona che devo incontrare una persona che che mi genera ansia no sì a volte succede questo questo discorso quindi un pericolo una minaccia un giudizio mi va male un esame mi va male un incontro un colloquio di lavoro l'ansia di qualche cosa che non va come io vorrei come in qualche modo vorrei che andasse insomma il controllo di cui parlavamo prima però c'è un'altra ansia generalizzata che è una dimensione trasformata della paura l'ansia è un sorrogato della paura in qualche modo mentre la paura abbiamo detto la paura è per un oggetto o per una situazione realmente accaduta cioè per qualcosa di reale l'ansia invece è per qualcosa di proiettato qualcosa che potrebbe avvenire quindi la paura è avvenuto e pensate allo spavento se c'è paura c'è spavento se non c'è spavento spavento nel senso quando che ti trattiene respiro e ti manca l'aria per un minuto eccetera eccetera questa cosa di mancare l'aria poi la riprendiamo e invece l'ansia no l'ansia è sotterranea sottile più o meno accentuata che adesso ne parliamo però volevo dire l'altra dimensione è quella generalizzata che si trova per esempio sui luoghi di lavoro nelle gerarchie di potere cioè si esercita la paura per mantenere gli equilibri all'interno delle organizzazioni anche nella famiglia il padre che comanda ho deciso così basta punto no e poi come si ottiene la la risposta e la corrispondenza alle decisioni alle scelte con il potere non ci si può ribellare ecco che non c'è quella libertà di cui parlava elisabetta e quindi questa forma di ansia che mantiene tutti in una dimensione diciamo soggiogata di dipendenza di subire le pressioni in qualche modo limita la nostra libertà e ritorniamo al senso di 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 ansia di cui stavamo parlando quando prima ho detto paura la paura mi blocca il respiro mi manca il respiro pensate a una ho fatto un esempio qualche giorno fa per gli attacchi di panico e per l'ansia da prestazione quando bisogna parlare in pubblico no spesso quando bisogna qualcuno deve parlare in pubblico gli si blocca la parola gli manca il fiato gli viene la tachicardia eccetera eccetera è quella dimensione di vuoto che ci come dice assale è strano però il vuoto fa paura è come le vertigini pensate chi soffre di vertigini purtroppo sa qual è la sensazione ma tutti quanti noi anche chi non soffre di vertigini io non soffro di vertigini ma se vado su un piano molto alto e guardo giù mi viene un senso di come dire proprio qui dove ci sono tutte le terminazioni nervose no intorno all'intestino mi viene un blocco allo stomaco la paura ti prende prima di tutto allo stomaco poi è il cuore che comincia a battere ma è prima lì no che arriva questo questo blocco allora questa sensazione di vuoto che noi possiamo sentire anche in questi giorni come riempire le giornate mi genera ansia fra la gestione ansiosa ansiogena di ansiosa del presente e il timore del futuro come sarà il futuro un po come diceva sala ma come si riprenderà noi tutti che siamo fermi con il lavoro tutte le aziende che chiudono vanno in cassa integrazione come sarà quindi questo genera ansia ma che cos'è da che cosa generato generato da un vuoto è generato dal vuoto di non sapere dove sistemare le cose dove sistemare le mie azioni i miei i miei affetti le mie emozioni i miei interessi i miei bisogni come mi gestisco come mi organizzo è un po la stessa ansia che arriva agli studenti quando stanno per finire il percorso di studi in cui sono incanalati no se fanno il liceo se fanno l'università il master dopodiché il vuoto se non si è creato prima no una un senso di priorità ecco che allora cominciamo a parlare anche di soluzioni siccome non esistono soluzioni per le emozioni preta porte come gli abiti bisogna costruirle le soluzioni quindi una cosa che possiamo fare è cominciare a dialogare con le nostre emozioni dialogare che cosa vuol dire quando io dialogo non è che faccio dei monologhi come adesso sto parlando da solo perché c'è una telecamera ogni tanto leggo le domande ma se io avesse una persona di fronte io parlo poi mi zittisco e ascolto dialogare con le emozioni significa ascoltare le emozioni dopo che io ho parlato o qualcun altro ha parlato dopo che io agito o qualcun altro agito ascoltare le emozioni che provo ascoltare quelle emozioni significa dare credito accettare la realtà per quella che è cercare di comprenderla cercare di capirla in che direzione io voglio o non voglio andare perché le emozioni sono come dei segnali di accelerazione o di frenata quello che vivo mi piace quello che non vivo non mi piace mi sento adeguato non mi sento adeguato mi sento all'altezza non mi sento all'altezza pensate la paura dico paura perché generalmente usiamo la paura ma in realtà è ansia l'ansia per esempio del fallimento o l'ansia del successo sono due ansie perché uno dice c'è pure l'ansia del successo certo perché sarò all'altezza della situazione dopo aver avuto questa promozione sarò all'altezza della situazione dopo che avrà avuto un figlio saprò essere all'altezza della situazione dopo che sarà uscito dall'università saprò fare quel lavoro lì quanti non si mettono in proprio per paura di non essere all'altezza di fare libere professionisti di fare gli imprenditori oppure magari ci provano ci rinunciano perché al primo fallimento dicono ecco hai visto non fa per me e quel dire non fa per me spesso non sempre spesso sono delle soluzioni sagge e forse magari qualcuno in più lo dovrebbe fare e anche qualcuno che invece fa un lavoro impiegato a tempo indeterminato magari avrebbe voglia di provarci dovrebbe spingere di più insomma sul crederci e provarci però sono cose che si costruiscono non si fanno dall'oggi al domani bisogna costruirsi come dire per prove ed errori e mentre tu elabori cerchi di capire cosa è andato bene cosa non è andato ma cosa è andato male cioè capire cosa devi aggiustare con noi l'errore che facciamo e siamo un po fatalisti vorremmo che le cose accadessero tutto e subito no perché siamo un po impregnati di cultura cattolica della provvidenza siamo un po impregnati del fatto che qualcuno si è sempre occupato di noi e alla fine noi come creatori della nostra vita creatori del nostro percorso di crescita professionale umano viviamo un po la giornata un po con senso di fatalismo un po così ecco allora invece lavorare pensate quanto tempo noi abbiamo a disposizione pensate se questo tempo viene utilizzato in vista di un progetto e confrontato con altri che ti osservano ti ascoltano ti danno dei feedback ecco un'altra cosa e qui lo dico anche i miei colleghi dobbiamo fare una sessione dedicata al feedback cioè alla critica così costruttiva anziché distruttiva al fare e ricevere critiche dare e ricevere critiche una cosa che noi dobbiamo per favorire la fiducia dobbiamo assolutamente perseguire allora dicevamo rispetto alla alla dimensione di incertezza dimensione di fragilità che io vivo nel momento in cui mi espongo e vivo questa sensazione di ansia della paura del giudizio dell'altro come posso reagire come posso rispondere non posso educarmi tutte le emozioni o mi salvaguardano dal pericolo oppure sono segnali che mi aiutano a crescere sono segnali che mi indicano la strada mi dicono se quella strada è la strada giusta se quella strada è sbagliata come devo percorrerla e via dicendo allora allearmi con le emozioni significa allearsi con se stessi e noi un altro concetto che proviamo a toccare oggi alla solitudine la prima relazione che dobbiamo costruire con se stessi nel momento in cui io sento la mia vulnerabilità sento la mia ansia vuol dire che non c'è un buon rapporto con se stessi vuol dire che non si è dialogati sufficientemente in maniera onesta autentica con se stessi vuol dire che abbiamo ascoltato troppo l'altro protesi troppo verso l'altro per assicurarci la sua benevolenza come diceva la volta scorsa come diceva freud abbiamo barattato un po di sicurezza la nostra libertà con un po di sicurezza ecco noi barattiamo per conformarci per compiacere l'altro abbiamo sempre bisogno del del della gratificazione del riconoscimento dell'altro ma rinunciamo a noi stessi quando questo lo fai per troppo tempo se in crisi con se stessa non non ti riconosce quando ti arriva un'emozione e quella è autentica quella tua verità tu la scacci non la riconosci la eviti non la vuoi manifestare neanche a te stessa e allora a quel punto chi sei cosa vuoi dove vai se io non so quali sono i miei le mie busso del mio orientamento noi quando facciamo aula chiediamo quali sono i valori delle persone molte persone specialmente i giovani non sanno quali sono questi valori i valori qualcuno dice il rispetto benissimo qualcuno dice la vulnerabilità ma benissimo cosa vuol dire che tu hai bisogno di essere rispettato che tu hai bisogno che ti si rispetti nella tua vulnerabilità nella tua fragilità eccetera ma abbiamo necessità di ricondurci a una bussola interiore che mi guida nei momenti di smarrimento e quindi ho bisogno di conoscere bene chi sono ma se non mi ascolto e quando è che mi ascolto quando interagisco con gli altri perché gli altri mi aiutano a venire fuori perché offrendomi delle opportunità sempre nuove sempre diverse mi danno la possibilità di esprimermi nella mia vasta gamma di colori nella mia vasta gamma di sfumature di suoni e di emozioni un bambino un ragazzo andrebbe stimolato a venire fuori così com'è non come vogliamo che sia perché più noi vogliamo che sia in quel modo più lui per avere il nostro amore corrisponde alle nostre aspettative più si allontana da se stesso e poi si ritrova a essere quello che diceva Elisabetta cioè educato in un certo modo ma lontano da quella che è la sua reale natura ecco quello che noi dobbiamo recuperare questo senso di integrità di congruità con noi stessi essere congrui vuol dire essere come dire in sintonia fra quello che percepisci quello che senti quello che pensi e quello che esprimi quello che che fai un po come la coerenza solo che la coerenza è fra quello che dici e quello che poi fai no quando si dice che è una persona incoerente perché dice una cosa ma poi ne fai un'altra la coerenza la congruenza è senti dici fai la stessa cosa allora concludo questo concetto che per me è molto importante della crescita legata alle emozioni cioè la fragilità la vulnerabilità l'incertezza il dubbio l'ansia sono tutte emozioni che mi aiutano mi stanno aiutando a far venire fuori qualcosa di me se io ho un po di ansia rispetto a un esame un colloquio un incontro eccetera eccetera mi sta dicendo che forse o non conosco bene l'argomento o non conosco bene le mie reazioni perché in altre occasioni magari ho reagito male mi sono bloccato eccetera eccetera e non le so gestire oppure non conosco bene l'altra persona ricordatevi sempre questa tri di tri di triade io il contenuto il contesto della della situazione perché siamo in relazione sono un docente sono un datore di lavoro sono un marito moglie eccetera eccetera e l'altro chi è cioè che cosa c'è che mi lega a questa persona fate conto se devo andare a un'interrogazione io i contenuti e l'altra persona una di queste tre dimensioni o su tutte e tre o due di queste io mi sento impreparato oppure è talmente alta l'aspettativa che non avendo la certezza del risultato io mi sento comunque in ansia questo non fa altro che peggiorare la situazione allora qual è il risultato che tu vuoi ottenere tu se sai che aumentando il livello di aspettativa aumenta il livello di incertezza noi non possiamo fare altro che abbassare questo livello di aspettativa pensate alla formula della felicità c'è un libro che ho letto un amico mi ha regalato per natale un libro che l'equazione della felicità e la sua formula di base dice la felicità è proporzionale all'aspettativa che tu hai nella vita che non vuol dire non avere aspettative ma commisurarle a quello che è il tuo range sempre un po di più ma mai eccessivamente di più perché se no quel livello lì è uno scarto in cui tu cadi come in un vuoto quel vuoto lì è quello dell'incertezza dell'ansia del dubbio del timore ok allora concludo questo concetto poi ci sono altre domande a cui vorrei rispondere è fondamentale che noi esseri umani cresciamo continuamente e per crescere dobbiamo ascoltare le emozioni le emozioni ci guidano e per riconoscerle bisogna farle venire fuori e vengono fuori nella relazione che noi abbiamo con gli altri le emozioni sono sempre sociali se noi fossimo ancora nella giungla viveremmo le emozioni primarie no quelle della paura rabbia aggressività queste cose che che le vediamo anche le abbiamo edulcorate l'abbiamo non abbiamo più la paura della sopravvivenza fisica abbiamo paura della sopravvivenza psichica dell'immagine cioè quello che io sento vulnerabile oggi è la mia immagine non più la mia incolumità ma io mi sento morire pensate alle frasi che diciamo mi sono sentito morire è la stessa cosa non moriamo fisicamente moriamo psicologicamente emotivamente allora bisogna portare molta attenzione a questo processo di crescita trasformativo delle persone quando io sento le persone dire sono fatto così stanno dicendo che hanno paura di cambiare perché sono quelle situazioni in cui ti proteggono essere tutto bianco e corrispondere a come si è quando si è bianco o essere tutti neri e corrispondere a come ti dà una certa garanzia ma ti allontana dalle tue sfumature perché non c'è nessuno di noi che è totalmente bianco totalmente nero rosso verde giallo ok noi siamo pieni di sfumature allora la ricchezza è riconoscere le tue sfumature quanto c'è di cattivo in te quanto sei buono quanto sei cattivo quanto sei come dire impaurito coraggioso temerario vile fragile vulnerabile ammettere le proprie emozioni ci dà una grande chance di crescita di conoscenza di alleanza e di allenamento pensate queste due termini alleanza e allenamento per la nostra crescita attraverso le emozioni la conoscenza di sé che il primo passaggio se necessario per avere una migliore condizione di benessere in questo periodo quali sono i modi per suddividere e gestire le tre dimensioni spazio tempo e persone beh domenico spazio tempo persone adesso qui siccome sono le tre dimensioni della vita cioè non è facile in una risposta però ti posso dire questo il tempo deve essere finalizzato alla tua crescita e alla crescita delle persone che stanno con te questo deve essere l'obiettivo cioè l'obiettivo finale anche verso le persone e lo spazio che viene usato cioè lo spazio diciamo che è una maniera più come dire se tu sei condizionato in una casa e hai una casa molto piccola o se hai una casa molto grande non ci sono problemi ma mettiamo che tu hai una casa piccola allora la gestione dello spazio è funzionale alle esigenze delle persone alle necessità delle persone le necessità diciamo le priorità delle persone sullo spazio sul tempo sono quelle che sono funzionali alla loro crescita al loro sviluppo alle loro necessità tu da un bambino che deve mangiare un bambino che ha bisogno della poppata che gli dici aspetta che adesso devo fare una telefonata no deve mangiare basta deve mangiare basta noi adulti ecco un'altra cosa che volevo dire prima sul limite è la l'accettazione e l'educazione alla frustrazione cioè nel senso accettare come di di rimandare la gratificazione cioè il limite ci educa in qualche modo il limite del tempo dello spazio noi in questo periodo stiamo diventando tutti più creativi perché abbiamo il limite dello spazio costretto il limite che non possiamo ci stiamo inventando soluzioni tutti allora creatività e crescita hanno la stessa radice se tu vuoi una risposta sintetica è analizza la relazione spazio tempo persone in funzione della crescita tua e degli altri questa è la risposta più sintetica che mi sento di dire ascoltandoti mi arriva immediatamente in mente la parola empatia una parola che mi piace ma difficile difficilissima ad attuare cosa ne pensi simona la parola empatia significa sentire quello che sente l'altro non significa simpatizzare con l'altro significa sentire riconoscere e legittimare le emozioni dell'altro perché se tu vuoi che si legittimino le tue emozioni devi cominciare a legittimare le emozioni dell'altro quindi la parola empatia è una parola che bisognerebbe veramente frequentare ma se ne fa un uso consumistico cioè non è vera l'empatia perché l'empatia non è sentire e condividere si la penso anch'io come te no assolutamente anche una persona se tu avessi di fronte la persona più cattiva del mondo e noi sappiamo che la cattiveria nasce dal dolore perché la persona è in cattività noi rischiamo di diventare cattivi anche in questo periodo se subiamo la situazione sentendoci tutti un po' in cattività quando io sento qualcuno che dice siamo agli arresti domiciliari no ragazzi non siamo agli arresti domiciliari abbiamo un'opportunità enorme di riflettere come non mai su noi stessi su un tempo che dobbiamo come dire noi cerchiamo di allungare la vita allungando il tempo è una sciocchezza noi dobbiamo allargarla la vita dobbiamo renderla spessa dobbiamo creare spessore dando valore alle cose che facciamo facciamo troppo troppe cose senza dare valore e la prima cosa che dobbiamo fare è dare valore alle relazioni ascoltando quello che sentono e percepiscono gli altri è di una ricchezza incredibile e ci allena ci arricchisce ma questo non vuol dire due cose non dobbiamo fare con l'empatia e in qualche modo una mia studentessa che saluto perché sicuramente ci sta seguendo Valentina ha preparato una bellissima tesi e uno dei concetti che ha esplorato è proprio questo dell'empatia ci sono dei limiti nell'empatia ovviamente non bisogna andare in burnout non bisogna farsi come dire andare in risonanza con l'emotività dell'altro perché a quel punto ancora ancora se uno soffre soffro con lui ma se uno è cattivo divento cattivo pure io e allora ci aggrediamo reciprocamente eccetera eccetera no bisogna tenere una distanza una distanza partecipativa ok ma neanche troppo distante perché se no non arrivi a sentire quello che sente l'altro questo è quello che penso simone una chiave di lettura ottimistica di questa quarantena potrebbe essere quella di vedere il distanziamento sociale come nuova forma di solidarietà io personalmente cerco di vederla così bianca sì penso che possa essere una chiave se nella forma di solidarietà tu intendi rispetto cioè il distanziamento sociale cioè se tu vedi nella come dire in quello che c'era prima nell'essere tutti amici quanti amici c'è su facebook nell'essere tutti come dire solidale così in maniera ipocrita ma ripartire da da una distanza per creare come dire rispetto della persona allora sì altrimenti mi devi aiutare meglio a capire il distanziamento sociale come forma di solidarietà perché mi mi sfugge se non come come funzione del rispetto insomma rispetto dell'altro quindi gli spazi dell'altro il ruolo dell'altro riconoscere la dignità dell'altro uno dei valori che bisognerebbe recuperare al di là del ruolo è proprio quello della dignità dell'essere umano qualsiasi ruolo qualsiasi qualsiasi dimensione professionale cultura a qualsiasi appartenga e corrisponda è una persona e quindi come tale va rispettata la sua dignità va rispettata sempre e comunque questa cosa sfugge spesso quindi la sincerità un ruolo in tutto questo è certo anna che la sincerità un ruolo ma il discorso è quanto costa la sincerità in un contesto dove bisogna apparire nel nel miglior modo possibile questo è il prezzo che noi paghiamo sincerità e libertà vanno di pari passo certo se noi pensiamo male dire male sempre a tutti quanti non è così come dire vantaggioso prima o poi ci troveremo relegati in un angolo il pensiero che mi viene da 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 fare rispetto a questa osservazione di anna è prima di essere sinceri dobbiamo pensare bene poi possiamo essere sinceri noi dobbiamo essere dei ben pensanti non dei malpensanti perché allora il ben pensante benedice il malpensante maledice noi dobbiamo ridurre la dimensione della malevolenza del pettegolezzo critico verso l'altro per avvantaggiare noi stessi è questa cosa che dobbiamo evitare allora generare pensieri positivi verso l'altro che partano dall'accettazione se io ho una persona cattiva di fronte infina certo cerco di coinvolgermi il meno possibile sia un datore di lavoro un cliente cerco se posso di evitare altrimenti cerco di farmi una ragione di vedere gli aspetti positivi di quella persona che ci sono sempre una volta una persona ha detto che non riusciva a sopportare il suo capo un suo collega non ricordo perché lo trovava persona negativa cattiva eccetera eccetera e ho detto pensalo da bambino pensa quando era bambino e secondo te com'è diventato nel modo in cui tu lo vedi e magari questo modo lo subisce o lo vive in maniera naturale o il ruolo la maschera che ecco penso che ci sono ragioni dietro i comportamenti di ognuno di noi quindi la sincerità sicuramente l'autenticità noi siamo per l'autenticità quindi la sincerità è sicuramente un valore e deve ritornare ad avere un ruolo però prima della sincerità per poter essere sinceri bisogna pensare bene e bisogna pensare il meglio di sé e degli altri c'è ancora una domanda e poi andremo a chiudere e come far sì che l'ansia nel riprogrammare la nostra vita dopo questa crisi non eserciti un peso troppo gravoso su di noi come limitare questa influenza come diceva prima bianca questo possiamo farlo in un modo come dice laura sì scusa mi sembrava di averlo detto e questo la soluzione la chiave per per affrontare questo argomento che ci propone laura e proprio nella solidarietà siccome siamo tutti nella stessa barca siamo tutti come dire in balia di quest'onda o ci salviamo insieme o non ci salviamo o ci salviamo insieme o non ci salviamo individualmente non si salva nessuno più questa è una regola che viveva anche prima però non l'avevamo capita come vedete non tutti probabilmente rischieremmo di ammalarci o di morire ma per proteggere chi è più a rischio dobbiamo stare tutti a casa gli asintomatici per esempio non si ammalano ma sono portatori sani allora da questa situazione si esce insieme si esce insieme ricostruendo ricostruendo un tessuto sociale un tessuto di fiducia un tessuto di onestà ma di attenzione e cura dell'altro attenzione cura dell'altro la dimensione della cura noi dovremmo ritornare a praticarla di più e non relegarla soltanto ai medici ai terapeuti alla chiesa ma ognuno di noi deve prendersi cura di qualche cosa di sé e dell'altro sapendo che io cresco nasco da una relazione e vivo e cresco in una relazione nelle relazioni che costruisco quindi prendermi cura dell'altro vuol dire pensate quando io lo dico in azienda questo a volte le persone ridono ma se io faccio crescere i miei colleghi o i miei capi o i miei collaboratori dovrò crescere inevitabilmente anch'io perché la loro crescita mi arricchisce e mi stimola quando tu riesci a portare in squadra io per esempio in questi giorni sono felice perché è entrato nel nostro gruppo Eugenio che è una persona che stimo moltissimo abbiamo avuto poche chiacchierate ho letto i suoi libri e sono molto contento perché mi stimolerà a fare meglio e stimolerà anche i più giovani a fare meglio a crescere oggi Bianca per esempio diceva proprio questo sentiva fiera di ha detto proprio questa parola di far parte di questo gruppo perché lo sente che si si arricchisce di giorno in giorno di persona in persona che che arriva allora quello che possiamo fare Laura è proprio questo cioè darci una mano reciprocamente io aiuto te a crescere tu aiuti me a fare meglio quello che faccio e quindi a crescere e poterti aiutare meglio questa è l'unica soluzione che abbiamo ultima ultima poi un concetto che volevo dire sempre che comincia con l'ala avevo anticipato all'inizio per non lasciare solo l'ansia i social ci hanno abituato in qualche modo a farci accettare la distanza fisica a farci accettare la distanza fisica i social ci hanno abituato in qualche modo a farci accettare la distanza fisica ah ok ok adesso ho capito sì ma infatti questo caro Francesco ci condiziona quando invece siamo bis a di quando dobbiamo parlarci di persona abbiamo più difficoltà se dobbiamo raccontare tramite un emoticons come ci sentiamo è più facile perché dobbiamo scegliere fra quelli ma se io devo comunicarti come mi sento non lo so perché faccio fatica intanto a comunicartelo così di persona quindi questa distanza fisica bisognerebbe recuperarla con graduale esercizio graduale allenamento bisogna praticare la relazione non attraverso il virtuale attraverso il virtuale noi possiamo passare informazioni ma poi la relazione va costruita di presenza poi ogni tanto poi ci può essere il messaggio la telefonata eccetera però dobbiamo andare in presenza dobbiamo andare in scena è lì che si costruisce la relazione però noi spesso abbiamo difficoltà a esternare le nostre emozioni allora un concetto su cui volevo soffermarmi qualche minuto e e l'assertività l'assertività non è un'emozione vera e propria però è una modalità di esprimersi e di stare in relazione con gli altri la modalità assertiva è quella quell'equilibrio fra l'aggressività e la passività attenzione molti confondono l'assertività con l'asserire se stessi no devi essere assertivo no le persone a volte sento dire no perché io se sono assertivo poi mi faccio valere attenzione questa è una piccola confusione è vero che assertività viene da essere assertivi cioè affermativi asserire assertivo io asserisco io affermo a una stessa radice ma l'assertività è esprimere le proprie emozioni i propri pensieri nel rispetto dell'altro se l'assertività se l'essere assertivi si ferma all'affermare i tuoi bisogni e basta non è assertività è affermazione di sé incondizionata è affermazione di sé indipendentemente dall'altro invece l'assertività è un modo di esternare quello che senti quello che provi rispettando l'altro come si fa questo parlando in prima persona io mi sento così anziché dire tu mi stai facendo arrabbiare tu mi stai facendo venire la voglia di prendere andarmi tu quando dici il tu punti il dito in realtà tu stai avendo una reazione a una situazione e quindi devi esternare quello che stai provando e nel momento in cui l'esterni usando l'io la persona che hai di fronte si sentirà più in dovere di aiutarti magari ti dice ma io non volevo ferirti ma io non intendevo questo se tu non l'attacchi la persona non si sente attaccata e non risponde con altrettanto attacco o con la fuga ok ma se tu non l'attacchi dici io in questo momento mi sento in difficoltà perché alle tue parole mi sento come sto avendo una reazione emotiva e incontrollata perdonami devo prendere tempo ne riparliamo dopo dammi un attimo di tempo vado a bere un caffè eccetera eccetera anche per gestire per esempio certa rabbia a volte noi abbiamo di fronte dei clienti dei cocci che entrano come dire in una situazione di rabbia a volte anche quando facciamo gli incontri a due e lì dobbiamo trovare degli escamotage per far calare l'emotività e poi ritornare a ragionare mai a dire una persona arrabbiata ragiona perché uno gli stai dando un ordine poi gli stai dicendo di passare da una condizione emotiva a un'altra così come se avesse il telecomando diceva passa la modalità calma perché calmati perché così non ragioniamo sbagliatissimo quell'emotività deve fluire deve scema scemare la persona avrà l'occasione anche di ripensarla perché si è arrabbiata eccetera eccetera e poi si può passare alla modalità ragionamento sono due mondi completamente diversi ma di questo ne parleremo perché eugenio farà un webinar proprio sulla gestione del conflitto del contrasto e quindi vi rimando a quella a quell'appuntamento non so se ho detto abbastanza ma forse sì forse no comunque continueremo la prossima settimana con parlando di bisogni i miei bisogni i tuoi bisogni io vi ringrazio vi rinnovo l'appuntamento per la settimana prossima alle 18 sempre dalle 18 alle 19 vi chiedo se avete voglia di inviarci delle domande di mettere mi piace sulla pagina facebook così si vi arriveranno le comunicazioni di tutte le cose che facciamo e quindi quando organizziamo i nuovi webinar e niente grazie della pazienza e mi suggeriscono qualche cosa della chiedono i compiti a casa chiedono i compiti ci faceva ai corsi ah perfetto allora il compito a casa che possiamo cominciare a fare è registrare quello che vi accade e fare il cosiddetto diario di transito prendete un bel quaderno e scrivete ciò che è accaduto come hai reagito o risposto che cosa ha fatto l'altro o la situazione che alternativi avevi cioè prendere fai il fermo immagine prendi una situazione la analizzi man mano che tu la analizzi a diventi sempre più abile nella gestione nel passare dalla reattività alla risposta però devi analizzare le opportunità che avevi se tu per esempio ti succede una situazione e vedi che a posteriore avresti potuto fare quella cosa lì te lo ricordi la volta successiva se ti capita una cosa analoga quel ricordo ti verrà in soccorso e ti suggerirà un'alternativa a quella reazione e comincerai a produrre delle risposte l'allenamento è dato dall'osservazione dalla registrazione di come ci muoviamo il problema qual è noi evitiamo le emozioni evitiamo anche di rivederci come abbiamo agito questo però è un problema quando noi facciamo le sessioni di coaching non facciamo altro che farci raccontare quello che è successo o quello che vorrebbero le persone che succedesse e cerchiamo di creare dei tragitti delle strategie per andare da quello che sta succedendo a quello che si vorrebbe che succedesse ma dobbiamo portare la realtà sotto osservazione prima la accettiamo poi la trasformiamo ok grazie a presto